Ricordati alla Mezzia Terme, Francesco Tramonte, Pasquale e Cristiano, i due netturbini, vittime innocente della dragheta, uccisi il 24 maggio del 1991 nella zona di Miraglia a San Biase e i cui responsabili non sono stati ancora individuati. Una commemorazione caratterizzata dall'esibizione della giovane Francesca Cristiano, nipote di entrambe le vittime, che ha interpretato un brano inedito del cantatore romano Alessio Caterini dal titolo 22 volte, ovvero quanto furono i colpi sparati dagli assassini. Mantenere viva la memoria delle vittime di Indrangate e tramandarle alle nuove generazioni, con l'invito di farne un impegno morale contro l'asservazione ai sistemi criminali che tengono in pugno il nostro territorio e la Calabria tutta. Questo il messaggio degli organizzatori in questa giornata, segnata ancora dal dolore e dalla delusione per una verità che tarda ad arrivare a distanza di 33 anni. Il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, intervenuto alla commemorazione, ha sostenuto che Francesco e Pasquale erano nel loro posto a fare il loro dovere di cittadini e di pubblici dipendenti. Questo deve essere chiaro. Non erano a posto sbagliato al momento sbagliato, sono gli altri che erano nel posto e nel luogo sbagliati. Sono gli altri che devono essere allontanati, resi estragni al corpo sociale.